La metodologia Jigsaw è stata sviluppata da Elliot Aronson nel 1971, durante un periodo di tensioni razziali vissuti in molte scuole del Texas. L'obiettivo era creare un ambiente di apprendimento che promuovesse la cooperazione interraziale e riducesse i pregiudizi tra gli studenti. Principi fondamentali. La metodologia Jigsaw si basa su alcuni principi chiave dell'apprendimento cooperativo. Interdipendenza positiva. Gli studenti dipendono l'uno dall'altro per imparare il materiale e completare il compito. Responsabilità individuale. Ogni studente è responsabile per la sua parte del lavoro e per aiutare i compagni a imparare. Interazione promozionale faccia a faccia. Gli studenti lavorano insieme, discutono, spiegano e insegnano ai loro compagni. Competenze sociali e interpersonali. Gli studenti sviluppano abilità come la comunicazione efficace, la leadership, la risoluzione dei conflitti e la gestione del tempo. Valutazione di gruppo. Il successo del gruppo dipende dal contributo di ogni singolo membro. Struttura del metodo Jigsaw. 1. Formazione dei gruppi di base. La classe viene divisa in gruppi di 4 o 5 studenti, ciascuno con un mix di abilità, background etnici e livelli di rendimento. 2. Divisione del materiale didattico. Il materiale da studiare viene suddiviso in tante sezioni. Quanti sono i membri del gruppo? Ogni studente riceve una parte diversa del materiale. 3. Gruppi di esperti. Gli studenti, che hanno la stessa sezione del materiale, si riuniscono in gruppi di esperti, per studiare insieme e diventare competenti nella loro parte specifica. Durante queste sessioni, gli studenti discutono, chiariscono dubbi e si preparano a insegnare il loro segmento ai compagni di gruppo. 4. Ritorno ai gruppi di base. Dopo la sessione nei gruppi di esperti, gli studenti tornano ai loro gruppi di base. Ogni studente, ora un esperto nella sua parte, insegna ai compagni ciò che ha imparato. 5. Integrazione e sintesi. I gruppi lavorano insieme per integrare tutte le parti del materiale e completare eventuali compiti o progetti assegnati. Vantaggi del metodo GIGSO. 6. Promozione dell'inclusione. Riduce i pregiudizi e favorisce l'integrazione sociale. 7. Miglioramento delle abilità di comunicazione. Gli studenti imparano a spiegare concetti, fare domande e ascoltare attivamente. 8. Maggiore comprensione e assimilazione. 9. Gli studenti comprendono meglio il materiale quando devono insegnarlo ad altri. 10. Motivazione e coinvolgimento. Gli studenti sono più motivati e coinvolti quando sentono che il loro contributo è essenziale. Applicazioni pratiche. Educazione primaria e secondaria. Utilizzato per materie come storia, scienze, matematica e studi sociali. educazione superiore. Adattato per corsi universitari e di formazione professionale. Formazione aziendale. Utilizzato per promuovere la collaborazione e il lavoro di squadra in contesti aziendali. Punti critici e limiti. Gestione del tempo. Può richiedere una notevole quantità di tempo per la preparazione e l'esecuzione. Disparità di impegno. Alcuni studenti potrebbero contribuire meno attivamente, il che può influenzare l'efficacia del gruppo. Preparazione dell'insegnante. Gli insegnanti devono essere ben preparati per facilitare il processo e gestire i gruppi in modo efficace. Studi e ricerche. Numerosi studi hanno dimostrato l'efficacia del metodo Jigsaw. Nel migliorare la comprensione del materiale, la motivazione degli studenti e le abilità sociali. Ad esempio, ricerche condotte da Aronson hanno evidenziato che gli studenti che partecipano ad attività Jigsaw mostrano una maggiore empatia e cooperazione rispetto a quelli che utilizzano metodi di insegnamento tradizionali. Conclusione. La metodologia didattica del Jigsaw rappresenta un approccio potente e versatile per promuovere l'apprendimento collaborativo e l'integrazione sociale nelle scuole. Nonostante le sfide legate alla sua implementazione, i benefici in termini di comprensione del materiale, sviluppo delle competenze sociali e creazione di un ambiente inclusivo, lo rendono un metodo educativo prezioso e ampiamente adottato.